Come faccio a lavare una bicicletta dentro una vasca da bagno? La metto in questo sistema. Smonto le ruote, le ruote le lavo a parte, ve l'ho fatto vedere nel video precedente. Poi appoggio il manubrio qui sul bordo della vasca e la sella giù in fondo, in maniera che rimane in equilibrio. Questo è un sistema per poterla lavare, chi non ha il giardino, chi non ha modo di poterla lavare all'esterno, oppure l'inverno quando è freddo la vuoi lavare dentro la vasca, questo è un buon sistema. Che cosa uso? Ho usato due spugne, una nera perché non è che è nera, è sporca di grasso, questa da uso per le parti meccaniche. Infatti vedete si è sporcato tutta, per le parti meccaniche, catena, guarnitura, cambio e tutte le parti dove sono ingrassate e sporche con l'olio. Poi la parte, la spugna, questa più pulita, la uso con uno shampoo per pulire il telaio. Ho usato questo prodotto oggi per la prima volta e non è male. C'è anche scritto che si può utilizzare dappertutto, anche per la bici, c'è scritto anche dietro per la bici. L'ho usato soltanto sulle parti meccaniche, in maniera che me lo sgrassava per bene. Il risultato sembra ottimo. Ho dato prima una passata con quel prodotto su tutte le parti meccaniche, ho aspettato qualche minuto che agiva, poi ho lavato con la spugna, l'ho risciacquata e poi ho lavato il telaio e tutto quanto. Come lavare una bici dentro la vasca da bagno. Facciamolo rivedere. Manubrio appoggiato sul bordo della vasca, giù la sella, togliamo le ruote perché almeno è meno ingombrante. Le ruote le andiamo a lavare poi a parte. Se vi è piaciuto pollice in su e soprattutto commenti. Facciamolo rivedere.